Un calloroso saluto a tutti a Romagna Boys & Girls, chi vi parla è il vostro fotografo ufficiale Lune. Quello che ci stiamo per lasciare alle spalle è stato per me un anno molto intenso e avrei piacere di condividere con voi quella che è stata la mia esperienza. All'inizio anno ho accettato di ritagliarmi questo ruolo, pur senza la dovuta esperienza, ma consapevole del grande lavoro che avrei dovuto sostenere, determinato a dare il mio personale contributo per la crescita della crew. Ero solo un omino delle foto, ma piano piano mi avete permesso di crescere e migliorarvi. Canon in mano e zaino in spalla sono stato la vostra ombra, un osservatore attento e spero anche un buon compagno di viaggio. Mi avete accompagnato ovunque, dalle Marche all'Alto Adige, con voi ho visitato posti meravigliosi, presenziati in fiere ed eventi importanti, ma soprattutto in compagnia abbiamo riso tanto, bevuto di più, scherzato e ci siamo supportati quando è stato il momento di rimboccarsi le maniche. Ho vissuto momenti felici e purtroppo, come in ogni gruppo fatto da tante persone così diverse tra loro, ci sono stati anche casi spiacevoli. Qualcuno una certa ha deciso di andarsene, ma resterà comunque parte di me per ciò che ha saputo trasmettermi, mentre con altri ho cementificato un'amicizia sincera che spero durerà per sempre. Molte delle emozioni che ho provato non possono essere raccontate per l'intensità con cui le ho vissute, spero in ogni caso che i ricordi immortalati nelle foto che ci restano di questo meraviglioso anno possano accompagnarci per sempre. Ripongo la mia speranza in un prossimo anno ancora più bello, con tante nuove persone con cui poter scrivere nuove bellissime storie. Grazie dal profondo per tutto.